Ragazzi, oggi vorrei parlarvi di cose molto importanti che riguardano il canale, quindi se siete interessati vi consiglio la visione del video. Il canale riceverà numerosi cambiamenti, innanzitutto ho ripetuto lo stesso errore dell'altra volta portando in un momento gameplay e ho nuovamente provato la sensazione di non voler fare video e quindi ho deciso, almeno per ora, di non portare più gameplay ma solo teorie e riflessioni perché è un argomento che mi piace decisamente di più. E ora come ora, non sono per non interessato a portare gameplay. Di conseguenza, visto che il mio nome di Dash decisamente intende che io porti gameplay, ho deciso appunto di cambiarlo. La storia del nome di questo canale è piuttosto particolare, ma appena creato il canale ho miso un nome completamente a caso che era di Gamer4U con l'intenzione di riportare video. Poi cominciai a parlare di anime e manga e cambiare il nome MindGamer08. Ora però ho deciso cosa fare sulla mia piattaforma, almeno per ora. Con le riaperture del canale mi sono finalmente accorto che portare gameplay, se di tutto, non fa per me. Ciò che voglio veramente è tentare di diffondere il più possibile la mia passione, l'animazione. E il nuovo nome sarà Ninja Stechina. Spero vi possa piacere. Ragazzi, credo di aver detto tutto. Vi avverto che i video ricominceranno la prossima settimana, perché mi ci vorrà un po' accambiare tutto il materiale. Come avete potuto vedere, ho modificato la grafica e dopo. Ora tocca intro e outro, che per ovvi motivi non saranno inseriti in questo video. Quindi da Ninja Stechina è tutto, ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Ciao!